Nonostante l'assenza di un evento trainante, il bilancio della stagione turistica del comune di Fano è stato definito positivo dall'assessore Stefano Marchegiani. Da gennaio al mese di agosto, nelle casse comunali è entrato il 14% in più per la tassa di soggiorno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel 2015 in totale sono stati incassati oltre 180 mila euro. I dati che stiamo ricevendo adesso da ASET sulla tassa di soggiorno ci tranquillizzano rispetto a un timore che abbiamo avuto, nel senso che il referendum per Marotta Unita ci ha sottratto 12 alberghi e un campeggio, quindi noi temevamo un sbilancio nei confronti del tradizionale gettito della tassa di soggiorno. Non è così, quasi 26 mila euro in più che ci consentiranno, io credo, a buona ragione, di confermare le previsioni di mantenimento della tassa di soggiorno quando avevamo le 13 strutture che ci sono state sottratte. Questo importo verrà reinvestito sempre sul turismo, settore in cui l'amministrazione continua a lavorare e a credere, anche con una nuova strategia di comunicazione. In questo periodo infatti sono stati realizzati alcuni video per meglio promuovere le bellezze che offre la città e per mostrare il forte legame esistente tra le varie iniziative artistiche, culturali o ludiche e più importanti monumenti fanesi. Oggi abbiamo presentato altri due video, due video più altri cinque spezzoni sui monumenti di Fano, realizzati dalla Sette Gold, una rete che si è interessata alla nostra città in un ciclo di trasmissioni che riguardavano le Marche e la Romagna e le aziende enogastronomiche. Sono cinque clip di un minuto che riguardano i monumenti più famosi della città, e quindi la Rocca Manatestiana, la Corte Manatestiana, la Darsena Borghese, la Chiesa di San Francesco e l'Arco d'Augusto. Poi invece abbiamo presentato stamattina, come già fatto per Expo, un video promozionale del Generale Sufano e come aveva fatto la Carnevalesca per il Carnevale, un video sul Fano Jazz, con spezzoni di concerti fatti, ma un bilancio anche da parte di critici che hanno assistito a questa edizione, e un video su concerti d'organo, che è la più antica manifestazione di Fano, che faccia conoscere al meglio questa bellissima e tradizionale manifestazione che quest'anno ha dato soddisfazione anche in senso di gradimento di pubblico.